Sospiro di sollievo per i residenti di Borgo Molara sta per essere ripristinata dopo le modifiche sulla circolazione la linea 364 la cui sospensione aveva generato diversi disagi. Il problema era sorto a seguito della soppressione per motivi di sicurezza delle linee 364 e 365 che collegavano il quartiere con il parcheggio Basile della linea 906 che portava in corso Calatafimi isolando così l'intero quartiere. Una soluzione quella del ripristino di una delle tre linee raggiunta dopo il sopralluogo di comune Amat e Regione. Secondo quanto si legge dall'ordinanza comunale per permettere la corretta circolazione del bus verranno introdotti nel percorso di vieti di sosta e sensi unici oltre che la collocazione di specchi parabolici. Resta comunque il problema della linea 906 sottolinea il presidente della quarta circoscrizione Silvio Moncada che collegava a Borgomolara concorso Calatafimi e che era utile soprattutto agli anziani che si dirigevano ai centri di alisi o agli uffici postali ed anche agli studenti delle scuole superiori non inclusi nel servizio di scuola bus preesistente. Il dibattito si rinnoverà venerdì mattina con l'incontro dei rappresentanti della quarta circoscrizione con Giusto Catani all'assessore alla mobilità e vertici dell'AMAT.